Dopo mille indiscrezioni, la notizia ora è ufficiale. Anche l'Hobbit, l'atteso prequel del Signore degli Anelli di Peter Jackson, tratto dal romanzo di Tolkien, sarà una trilogia in 3D. A renderlo noto, sono state le case di produzione dell'opera alla New Line Cinema, Metro Goldwyn Meier Studios e Warner Bros. Pictures. Lo stesso Peter Jackson ha dichiarato che dopo aver visionato le scene avanzate dal montaggio delle prime due parti, un viaggio inaspettato in uscita a dicembre 2012 e andata in ritorno, previsto per il 2013, con i suoi collaboratori ha capito che c'era sufficiente materiale per un nuovo capitolo. Sappiamo, ha spiegato Jackson, quanta parte della storia di Bilbo Baggins, di Gandalf, dei nani di Erebor, dell'ascesa del Negromante e della battaglia di Dol Guldur non verrebbero alla luce se non cogliessimo questa occasione. Il nuovo film dovrebbe uscire nell'estate del 2014. Nel cast, riconfermati Ian McKellen nei panni di Gandalf il Grigio e Martin Freeman nel ruolo centrale di Bilbo Baggins. Ritornano alcuni attori del Signore degli Anelli, come avuto Orlando Bloom, Cate Blanchett, Christopher Lee e Andy Serkis nella parte di Gollum. La storia dell'Hobbit, primo libro sulla terra di mezzo scritto da Tolkien nel 1937, si svolge 60 anni prima dei fatti raccontati nella Signore degli Anelli. Il protagonista questa volta è lo zio di Frodo, Bilbo Baggins, alle prese con la riconquista di Erebor, una volta regno dei nani, ora governato dal temibile Drago Smaug.